A Lucca abbiamo una situazione di difficoltà, abbiamo una coda sui tamponi che è derivata da una sommatoria di fattori dalla carenza per un certo periodo di tempo della cosiddetta plasticheria, ossia puntali e strip che sono una componente che serve per poter processare i tamponi. Al momento è stato risolto il problema dei puntali e in via di risoluzione il problema degli strip. Da questa settimana ricorreremo per far fronte alla necessità corrente e per recuperare le code anche ai tamponi rapidi che verranno usati anche nei drive-thru in modo che si possa recuperare il pregresso e far fronte al nuovo con questi test. È un momento purtroppo di difficoltà perché su Lucca si è creata una coda un pochino più alta rispetto agli altri laboratori. Ad oggi i numeri precisi non glieli so dire perché di giorno in giorno variano, comunque è un numero abbastanza consistente. Io di questo chiedo scusa a tutto il territorio, però cercheremo già da questa settimana di smaltire le code. Purtroppo quando ci sono rotture di stock è anche difficile prevederle. Esther ce la mette tutta, noi tutti ce la mettiamo tutta, però in questo momento il territorio è in difficoltà e quindi cercheremo davvero di fare un piano straordinario.